Sarai la città di Sanremo come ogni giorno diventi sempre più forte. In questi due giorni io ho vissuto la città più anche altro fuori dal teatro Harrison e vedo che giorno dopo giorno l'entusiasmo cresce e sicuramente c'è da parte della città una grande positività verso tutto il contesto. Mi piace tantissimo il discorso del red carpet, vedere migliaia di persone e vedere soprattutto una grande attività da parte degli artisti con le varie interviste e cose. C'è proprio una voglia di vedere i cantanti anche in città. Su questo permettetemi anche di fare un ringraziamento alle centinaia e migliaia di persone che lavorano per questo festival, un po' anche al di là fuori dai riflettori. A partire anche dai nostri commercianti che hanno fatto tantissime vetrine a tema sui fiori, sulla musica. C'è tutto un mondo che sta crescendo insieme ai dati di ascolto. Vi voglio solo portare attenzione a due eventi collaterali, due eventi collaterali che ho visitato e che mi hanno sicuramente dato un e-book di sottolinearlo a tutti voi. Rai per il sociale che si concluderà oggi all'interno della casa CIA in Piazza Colombo e un altro evento che è Rai Porta Aperte che ieri sono stato proprio a visitare i ragazzi e devo dirvi che è stato un momento bellissimo. È un evento dove praticamente partecipano più, hanno partecipato e parteciperanno entro domani più di 500 ragazzi dove grazie agli operatori della Rai che si sono messi a disposizione forse qualcuno è svenuto dopo le mie parole, dopo 500 ragazzi più che hanno partecipato a Santa Tegra dove per un giorno diventano protagonisti, spiegano come creare un programma, spiegano come fare i conduttori, i registri e qualora. È un evento secondo me è un'iniziativa che va sicuramente in prossimi anni ampliata e di questo voglio fare un ringraziamento a tutti gli operatori, alle scuole che hanno partecipato ma secondo me è un momento, mi piace a piacere sottolinearlo perché è giusto anche secondo me durante il festival dare dei segnali di questo tipo. Buongiorno, buona giornata a tutti e ci vediamo più tardi in giro per la città. Grazie.